Allora, è importante donare perché indubbiamente ci sono due vantaggi. Un vantaggio a livello della persona e del donatore, monitorato dal punto di vista della salute ed è un modo per aiutare concretamente delle persone che hanno bisogno. In particolar modo uno sportivo si deve avvicinare alla donazione appunto perché lo sportivo già di per sé segue uno stile di vita sano e quindi a maggior ragione è possibilitato nelle condizioni di poter aiutare chi ha bisogno. Quindi questo è il motivo per cui uno sportivo e anche una persona in salute deve donare il sangue. Allora, chi non ha mai donato può venire qua alla sede Davis Provinciale di Brescia si è aperti tutti i giorni dal lunedì alla domenica alla mattina dalle 7.30 alle 10.30 e la prima volta farà solo colloquio con il medico e un piccolo prelievo. Se è idoneo poi inizierà a donare con le modalità che le vengono indicate. Come Promovol siamo molto vicini a tutte le associazioni che lavorano sul territorio in primo luogo Avis dove a gennaio abbiamo organizzato una serata al teatro di flero aiutati anche da AID, ADMO e AIDO e oggi abbiamo portato qua una rappresentanza delle nostre ragazze perché riteniamo che oltre a fare volontariato anche in piazza è molto utile far conoscere i metodi e come si fa a donare sangue. Penso che si siano divertite anche perché è un'esperienza nuova e mi hanno già detto che alcune sono interessate e appena compiranno i 18 anni diventeranno anche loro donatrici Avis.